Ma adesso andiamo ad un'altra donna bellissima, bravissima, anche una super mamma. Siamo in provincia di Catanzaro, a Caminia, dove ci sta aspettando proprio Margaret Madej. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Margaret, come stai? Bene, grazie. Che bella, mamma mia, che meraviglia. Tu sei al Festival Magna Grecia. Esatto, sono qui per presentare il mio film, il mio ultimo film, Il mio corpo vi seppellirà, di Giovanni La Parola. Che è un western borbonico. Esatto, siamo nell'epoca del Regno delle Due Sicilie, quindi fine Ottocento, storia di briganti, nello specifico brigantesse, drude, donne crude e selvagge, interpretate da me, Rita Bela, Miriam Dalmazio e Antonia Truppo. Ah che bello, stiamo vedendo delle immagini, bellissimo. Sì, e di Giovanni Calcagno e di altri straordinari colleghi. Che bello, mi piace, originalissimo. È un ruolo assolutamente nuovo per te, vero Margaret? È un ruolo nuovo, devo dire che a livello attoriale mi sono divertita tantissimo. Sicuramente è un grande lavoro di preparazione, perché appunto durante la lavorazione abbiamo avuto modo di imparare a cavalcare, per esempio, ad utilizzare delle armi. Il mio personaggio viveva con il fucile addosso praticamente, quindi è con un occhio solo, perché il mio personaggio ha solo un occhio, si chiama Lucia. E quindi vediamo questi briganti che lottano con la loro tenacia appunto all'occupazione sabauda. Ed è stato questo, l'ispirazione poi dei personaggi del nostro film. Senti, tu hai detto... Osserei dire un film al femminile. Ah che bello, questo ci piace. Oggi parliamo veramente di donne. Sono una guerriera, hai detto, con la Sicilia nel sangue. Mi piace questa definizione. Beh, devo dire che essendo siciliana il sangue è ricco di cultura e di storia, per cui ecco mi piace pensare a questa definizione siciliana, insomma una guerriera siciliana, diciamo così. Tu ti abbiamo visto in Bari, ovviamente, una strepitosa Margaret Madej. Di Giuseppe Tornatore. Di Giuseppe Tornatore ed è stato proprio lì il tuo esordio che ti ha portato fortuna e da lì è partita tutta la tua carriera, meravigliosa, un ruolo dopo l'altro, sempre ruoli diversi. Ti piace metterti in gioco? Assolutamente sì, amo questo mestiere e più passa il tempo, più scopri le varie sfumature di questo lavoro straordinario perché ti permette appunto di poter vivere diverse vite nella tua stessa vita, quindi è un lavoro che amo. Margaret, tu sei anche una fantastica mamma, sei sposata con Giuseppe Zeno e avete due figli stupendi, siete una famiglia meravigliosa. Salutiamole se ti stanno guardando in questo momento, ciao Angelica, ciao Beatrice, salutiamo anche Giuseppe Zeno, grande attore anche lui. Grazie, grazie Margaret per essere stata con noi, per aver presentato il tuo film. Grazie a voi. Veniamo a vederti al cinema, assolutamente, siamo pronti per venire tutti. Nelle migliori piattaforme, quindi Amazon Prime, Rakuten, Infinity, Google Play, è disponibile appunto in piattaforma. Guardiamo Margaret Made. Grazie Margaret. Grazie, grazie a voi. Perché ha sposato Zeno? Sempre queste domande deve fare. Perché ha sposato? No, io conosco Zeno e è simpatico. Ma certo anche io. C'è un perché? Certo che c'è un perché. È il destino, era scritto, io aspettavo lui, lui aspettava me. Sono bellissimi insieme, si amano e hanno una famiglia meravigliosa. Un abbraccio Margaret, buona estate. Grazie a voi, un abbraccio. Anche a voi, grazie.